salve ragazzi bentornati sul mio canale youtube sono luca mariani oggi faremo un gameplay in battleborn online multiplayer lo provo la prima volta qui con con voi quindi non so bene come si giocherà mi raccomando ragazzi iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti commentate condividete attivate le notifiche e per se volete che vi porti altri gameplay di battleborn mi raccomando dovete assolutamente lasciare un like un mi piace cos'è sta roba oh ma si non so ma che roba è bene no va là ok ok manca ancora pochi secondi ok dovremmo iniziare forse preparati a combattere dai ragazzi però va bene qui facciamo i nostri scherni fra poco ragazzi iniziamo forse attendiamo ancora un po' ok che diavoli è ragazzi non sono un esperto di questo gioco lo sto provando la prima volta qui con voi in multiplayer quindi ok incursione combattete contro ondate di scagnozzi e sconfiggete le sentinelle nemiche scortate gli scagnozzi verso le sentinelle nemiche per disattivarne gli scudi e renderle vulnerabili distruggete la sentinella nemica finale per vincere quindi che dobbiamo fare ragazzi la battaglia inizia fra 3 2 1 fuori bene produzione scagnozzi iniziata a prepararsi all'assalto ma scusate che cosa sentinella sentinella non so qua cosa dobbiamo fare ma scusate ma scusate e e il vincitore montana sono l'assassino migliore i nostri scagnozzi chiedono aiuto contro una sentinella morire fa proprio schifo eh si che è proprio di si è una di prendere tutti a calci ditemi cosa magari ne pensate se comunque vi può piacere mercenari disponibili qualche gameplay e come faccio ok i nostri nemici attaccano un campo di mercenari ah ok questo è per attivarlo non ho capito quello che dobbiamo fare i nostri nemici attaccano un campo di mercenari trall attaccato dai nostri nemici mercenari trall ostili in movimento levati di torno veramente disponibile boh proviamo allora scusate ragazzi ma non ho capito la carica quale quale è mappa ok ok facciamo meglio questa volta questa è la carica ok è arrivato l'odino dei ghiaccioli forza di che sono adorabile vediamo che succede una sentinella attacca il nemico difendila imbecille ok ok tutto firmato mercenari tralli in movimento questo chi è? arriva in fronte freddo ok ok dobbiamo arrivare là vediamo 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 ragazzi mi raccomando lasciate un like o un mi piace se volete comunque continui a portare la serie non sto parlando tanto per un semplice motivo perché sto cercando di capire insieme a voi il gioco quindi abbiate un po' di pazienza non mi sembra male ma sto ancora cercando i nostri nemici attaccano un capo di mercenari attaccato dai nemici quindi dobbiamo arrivare verosimilmente alla fine della mappa alla base del quartiere nemico da quello che ho capito mercenari mercenari trall ostili in avvicinamento magari dopo proviamo a cambiare personaggio prima che sblocchi gli altri vediamo un po' non so neanche questi cosa servono potenze potenze 500 che l'abbiamo potenziata non so cosa veramente dai dai ok ok questi sono i nostri scagnosti bene i nemici attaccano un campo di mercenari bene bene ragazzi miglioramento disponibile i nostri nemici attaccano un campo di mercenari perché io ne Columbia ma io non nor E ne ma io ne ma io non Aumento di livello Sangue freddo Questa Ok Eh lo sapevo Allora qui possiamo Vedere i nostri amicetti E non so se possiamo anche Comunicare con gli altri Comunque ci stiamo avvicinando al termine Alla fine della mappa Se dobbiamo verosimilmente portare i nostri scagnotti Alla base nemica per conquistarla Da quello che ho capito Rilevati tra le reglietti Diciamo che Battleborn è praticamente Quasi tutto online come gioco Allora Sfida completata Quelli però sono nemici Inizia a fare caldo qui Ok via ragazzi Via via Ma dove sono i nostri amici Guida gli scagnozzi Verso la sentinella nemica Per disattivare i suoi scudi Via Via Ora Via 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 Mi sa che moriamo male Campo di mercenari Tra l'attaccato dai nostri nemici È l'ora del palo Via Via I nostri nemici attaccano un campo di mercenari Ok Mercenari disponibili Dai Bene Mercenari Tra l'ingaggiati dal nemico Alleati impegnati con mercenari Tra l'altro Ok Via 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 Ma no questo è il nostro amico Abbiamo attaccato un campo di mercenari Tra l'altro Mannaggia Aumenta l'energia massima dello scudo di montana Superiorità Forze nemiche a metà della potenza Resta un solo nemico Sfruttate il vantaggio Alleati attaccano un campo di mercenari Tra l'altro Bene 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 Siamo quasi arrivati al termine Magari ragazzi ditemi Se siete esperti di battleborn Avete già giocato come voi lo giocate E magari fatemi anche sapere Insomma Non tremi ancora di paura? Attacco aereo! Alleati Tral sul campo Tral reietti disponibili all'ingaggio Temo che il tempo sia peggiorato Dai Campo di mercenari Tral Attaccato dai nostri nemici Sì diavolo sì Bene Cavoli Nemici attaccano un campo di mercenari Vedo un cattivo I nostri amici Superiorità Forze nemiche al 40% della potenza Aiuta i nostri scagnozzi a distruggere una sentinella nemica Mercenari Tral Stili Diretti da questa parte Ma che caldo Spero che abbiate portato ombrelli fonderati di piombo Via no ragazzi Mannaggia Cario Vistigiani extra nemici quando è attiva Vediamo questo Bene 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 Avete spazzato via le forze nemiche Non le invidio Quindi Quindi abbiamo vinto Mercenari disponibili Ora che dobbiamo fare Attaccato campo di mercenari Tral Eeeh Mi sa che ho messo su un po' di muscoli Ok Sbagliamo Un alleato ha ingaggiato mercenari Tral Forse questa ricarica Forze nemiche a metà della potenza Resta un solo nemico Va eliminato Ok Ok Bel lavoro Non prendi ancora di po' di cerchio Ti apre Siamo ancora amici Vero? Oh Ok No Ma Ferma Levati di torno Acciuga Ok Riolione di classe Carri No Un appartimento Che Sbagliate fino a Corte Due Superiore Forza nemiche al 40% della potenza oh si allora miglioramento disponibile vittoria ragazzi bene 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 ditemi magari cosa ne pensate a me non sembra assolutamente male nel suo genere stile giapponese quindi ragazzi abbiamo vinto fatemi sapere e ci vediamo al prossimo gameplay